Tocca in super car Ok, continuiamo la nostra carriera Salute ai nostri amici, ciao ragazzi Allora sto andando avanti un po' con la carriera Tra un po' arriva anche Carla, Carla vieni amore Monza Un attimo, adesso devo fare le cose Individiamo la live amici Allora sto andando avanti Vieni? 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 Si Adesso no Ciao miei amici, ciao Come è stato ragazzi? Beh, c'è un po' di peso Ma qua no La musica no Leo La musica no Basta tutto Gente che è stata cosa per copyright per la musica in sottofondo Ciao stream elements Ciao sound dollars Come state ragazzi? Ok, condiviso Fa un caldozzo ragazzi Ciao amici Ciao amici Come state? Tutto bene? Vediamo se funziona tutto Troppo online Troppo online sta casa Wet Quindi sta piovendo eh Ciao amici Come state? Tutto bene? Mio amico Charlie La musica zero Ciao amici Ciao ragazzi Ecco Una bellissima novità Ho trovato Il Tettine Ciao uomo tigre Come stai boss? Come stai amico mio? Ne na na ni Ne na 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 Grandissimo Ok Condivisione Tutto bene Oh che bello Che bello Io sto bene Sto bene Fisicamente Ci sono Anche se ho chiamato Per disdire Una settimanella O 15 giorni La palestra Che voglio Riposarmi un po' Perché tornato dal lavoro Veramente Veramente Tanta roba Davide L'hai comprato Il volante Davide Dai che ti voglio vedere Col volante Davidino Sono venuto a vederti Uomo tigre Ho preso Oh Queste sono le belle notizie Grande Uomo tigre Dai così ci facciamo Qualche bella partitossa Eh Grande Grande A Monza Con l'acqua Eh Dai che ci facciamo Ciao Sharder Amico mio Ci facciamo l'online Oh Sharder Amico Uomo tigre Ha preso anche lui Formula 1 22 Dobbiamo Dobbiamo farci le partitozze Sharder Quando è che continuiamo la campagna Allora Dobbiamo giocare con Uomo tigre Beh Grande 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 Hai ragione Grande Grande Uomo tigre Grandissimo Poi dobbiamo giocare la campagna Io e te Sharder Se vuoi possiamo fare anche adesso Eh Io ho iniziato la live Che non c'era nessuno Allora Facciamo la campagna stasera Se ti va Aspetto domani Grande Grande Davide Porca la L'oca Mi è andata via di attraverso Allora Sull'acqua No vabbè Dai No ragazzi Cos'è una figura Tutto bene Tutto bene Un fuego Todos bienes Grazie Una serie di queste Se ti va Facciamo una gareta Assolutamente sì Allora Uomo tigre Calcola che Io posso giocare con voi Tutti i giorni Ok Basta che ci mettiamo d'accordo E Faccio la prima parte Offline Diciamo che gioco Faccio Faccio tutte le mie cose E poi dopo giochiamo La seconda parte della live Che è sempre Alla sera Dalle 10 alle 11 La faccio con voi amici Di Twitch E quindi Posso giocare quando vuoi L'importante è che vieni tu E entri nella live E mi dici Dai giochiamo insieme E organizziamo Ok Senza problemi Buono tigre Allora domani sera gioco Gran Turismo 7 Mercoledì Giovedì o venerdì Sicuramente faccio Formula 1 Lo faccio stasera Ho visto la tua live Vai forte Vai forte Amico mio Qui andate forte un po' tutti ragazzi Dovete andare un po' più tranquilli Soprattutto quando giocate con Marco Drums Games Che io sono un vecchietto Le curve le faccio un po' lenti C'ho paura Sono un po' di quella cosa Di andar piano Andar piano In curva Caspita Cioè uomo tigre Ho cominciato A fare lo youtuber E andavo forte Andavo forte Poi ho cominciato Arriva Sharder Arriva Vertex Arriva Arrivano tutti Ma tutti veloci Non è possibile Ciao il fuego Grandissimo Saluta Brian Non ti vede amore Fatti vedere Capito ragazzi Grande fuego Cioè ragazzi È incredibile È incredibile Infatti Se vuoi uomo tigre Mandami Sì sì Sharder Esatto uomo tigre Se vuoi anche Sharderino Poi mandare amicizia Tra l'altro uomo tigre Non so se siamo amici Su Sulla playstation Se non siamo amici Sulla playstation Uomo tigre Perché io non mi ricordo Sapete ragazzi Che io non mi ricordo nulla Mandamela pure E me la mandi A Marco Drums Aspetta che te lo scrivo No amore Non ho scritto Allora cerca Cerca Marco Drums Ma ho scritto Sì Grande Grande Cerca Marco Drums Ho il grandissimo Logo dietro Con le fiamme Sera Zona e voi Ti saluta Sharder E E E Il Domani commenteremo Ah sei su formula Ah sei su formula 1 Perfetto Dai fammi fare sta garetta Poi giochiamo Così almeno le faccio una Una volta Del mio campionato Poi facciamo il nostro Campionato Ok Sharder Così Ciao Leo Ti sta salutando El fuego Ok E Mandami nella richiesta Eh Il tigre No è che il tigre Uomo Uomo tigre Dov'è il telefono Dopo quando arriva la richiesta Di accettarla Ah ok Tu intendevi Sharder Allora Scusami uomo tigre Ma infatti Mi sembrava Che ci eravamo Già scambiati Però sai che Non me lo ricordo Sharder Scrivi come sei Sulla playstation Per cortesia Così uomo tigre Ti cerca Sharder 98 Uomo tigre Bellissima Monza Bellissima Raga E' fatto veramente bene Anche il gioco Grande uomo tigre Dai dai che facciamo il team Anche se tu hai un team tuo Facciamo il team Marco Dranz Game Racing Così quando giochiamo Facciamo il live Facciamo una cosa Strafichissima Amico mio Dai 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 Mi va un botto Ste cosa Ci sono le librerie Di gran turismo Uomo tigre Che si possono scaricare Che ha fatto il mitico Sharder design Che non smetterò mai Di ringraziare abbastanza Che è troppo Sharder Ehm Come si dice E anche ha scritto Che ci saranno Altre livree Quindi ogni giorno L'amico Sharder Fa cose impressionanti Impressionanti Allora Anche se oggi Correrai sulla pista Iniziamo la gara E poi Sharderino Facciamo la nostra Allora Sempre mi danno paga Ma come mai Lui è la Red Bull E io c'ho la mia Macchina del merda Ciao Loki Allora sono davanti Alle Red Bull Alle Ferrari Con la mia Trident Ciao Loki Grandissimo Non ho neanche visto Se era il live No amico mio Trident Sembra la marca Quella lì Delle Delle ciche Ah ok Sei col Formula 1 Dopo ci giochiamo C'è anche Uomo Tigre E Loki Che ha comprato Il Formula 1 Si sta Allargando Ti ho scritto una cosa Mi sembra di averla vista Prima ma stasera È stata una serata Un po' incasinata Ho fatto un video Mi sono perso Con un gioco ragazzi Che è del Premium Del Plus Premium Si chiama Bad North È bellissimo Mi sono perso Ho fatto tipo Due ore A giocare Con quel giochino Lì Ho fatto il video Oh Ah ok Dopo dopo vedo Dopo Se occorre Carla O se ho un attimo Di tempo Lo vedo È una roba Che devo vedere Subito O si può vedere Anche dopo Loki Grande Con la Trident Marco Drums Games Ha fatto 1,37 Grande Drums Ragazzi Io volevo simulare Una cosa Dopo Magari La simulo Adesso Così Che Cosa ne pensate Se simulo Due giri Di Di Austria Spielberg Con Non c'è problema Metti il link Metti il link Discord È per tutti Discord Non c'è problema Se me l'hai chiesto adesso Te lo dico No problema No problema Amico Loki Maestro Driftatore Che lo fai Metti il link Sulla Discord Va bene Va bene Va bene No problema Ascolta Ragazzi Sentite che Bella idea Che ho avuto Così poi Magari ci faccio Un video Anche Su TikTok Cosa le dite Se faccio Due giri Di pista A Spielberg Non la posso Condividere Me lo censura Ma sulla live No te lo censura Perché ho bloccato tutti Ma su Discord Ti censura E se no Mandamelo Come messaggio Whatsapp E lo faccio io Però aspetta che finisco I cinque giri Ma Discord Ti censura I I Cosi Sono tante cose Ragazzi Che non so Poi non ho tempo Non c'ho voglia Di dire troppo queste cose Devo anche rifare tutte Le iscritte sul canale Perché ho visto gente Che c'è Una roba No infatti Se la mia live La condividi Su tu Discord Non mi funziona Ah davvero? E quindi come facciamo? Ok Vabbè Hai fatto tutto tu A posto Questa Trident Raga non è male Sto facendo monza A livello epico Raga Epicità al massimo Con la mia Trident Non ti si apre discord Ok Non ti funziona Il tuo discord Io come Cosa ci posso fare Amico mio Dimmi cosa devo fare E lo faccio E lo faccio No ragazzi Ditemi quello che devo fare E io lo faccio Tanto Ho fatto un record E mi pettino Ok Loki Così Tampacumi Ciappacciamo qualcosa Dopo dimmi Dopo dimmi quello che devo fare E io lo faccio Il distacco dal tuo compagno Dietro di te È 13,3 Secondo me devo far correre Con queste macchine qua Carla Sono molto più tranquille Se mi condividi il tuo twitch Ma come faccio a condividerti il twitch Non ho capito Non ho capito cosa devo fare Ma me l'hai spiegato Spiegamelo su whatsapp Qualcuno ha capito Quello che intende Loki Raga Io non capisco Cosa devo condividere di twitch Ho già condiviso la live Il mio twitch Sulla tuo Canale discord E questo La mia live sul tuo canale discord Se no non ho capito Se non è questo Non ho capito A qualunque non funziona discord pure Strano Io ce l'ho da 3-4 anni Sono bandato Qui i giri Le velocità Sono inferiori ragazzi Al formula 1 Ma è brutto Si riesce a fare le cose Un po' più tranquillamente Oh madonna Stavo dicendo raga Che poi non ho capito Cosa devo fare Per l'amico Loki Volevo fare un video Di due giri In Austria A Spielberg Con Charles Leclerc Che è la Ferrari E il cambio Che non funziona Cioè E l'acceleratore che rimane Sempre pigiato Cosa ne dite? A riprovare Gli attimi Che ha provato Le emozioni Che ha provato Il nostro amico Charles Leclerc Un pello di cordolino Ma il giro è fantastico Ciao amici E amiche di Twitch Come state? Vincitore Marco Drums Fantastico Hai vinto il Gran Premio Grande Trident Vincitore a Monza Prestazione superba Della Trident E vittoria Meritatissima Bella vittoria Trident Bevi e pettine Bevi e ho bevuto Pettine Lo facciamo subito Ho trovato il pettine Raga Prova a scrivere qualcosa E ferma la chat Persino una vettura Perfettamente bilanciata Non serve a nulla Ok guarda Bella Ci sono le highlights Oh yes Marco Drums Alla Trident Ha vinto il GP di Monza Grande Drums E' per voi E' per voi raga Bella Lord Amico mio Mi sei mancato E qui c'è Drums Guarda gli highlights Guarda gli highlights Lord Come stai? Sei stanco eh? Eh l'ho capito Amico mio Che sei stanco Anch'io sono distrutto Amico Quando arrivo a casa La sera Ma purtroppo La live Devo farla Perché Primo perché Mi piace giocare Secondo perché Poi Mi sembra un po' così Grande Lord Hai visto Scharder Che è arrivato Lord Scharder Io ho finito la gara Ne faccio un'altra O vuoi giocare? Anzi Lord Ascolta qui L'idea che ho avuto Visto che Il nostro grande amico Charles Leclerc E lo dico In maniera figa Non per prenderlo in giro Perché è un grande Il nostro amico Charles Leclerc Però mi piace dire Charles Leclerc Che è molto Molto Monegasco Detto così Molto monegasco E volevo Sono settimane tosto Eh sì Eh sì Eh sì Eh lo so Lo so Lord Ti avevo capito Infatti vedi che non ti ho scritto niente Non per Ma perché avevo già capito Che ne erano in sci Con troppo caldo E troppe le cose Lavoro è tosto Anche io Ti dico la verità Infatti ho fermato la palestra Perché non ce la faccio Ho fermato due settimane La palestra Non ce la faccio proprio Giochiamo Ok Poi devo uscire Col mio amico Mi aspettano al locale Allora giochiamo adesso No? Ok Io devo fare Il tentativo unico Credo Eh Sharder Dimelo Ma che cacchio è Che piave sempre Fammi fare Un giro unico E poi Perché piove E poi dopo Nella gara No Ma che Cacchio di pista è Questa qua No che pista è Scusate Allora Che pista è Non l'ho mai fatta Con l'acqua poi Ma che pista è Non ho visto che pista è Ma me la ricordi Io l'ho vista così No e non so se te l'ho detto Volevo fare Lord Senti se è una bella idea La gara di Con Charles Leclerc Come ha fatto lui Con l'acceleratore Incantato Ma che pista è Ma che pista è Io non l'ho mai fatta E comunque spingeva E in certe curve Anche acceleratore pieno E perché hanno dei freni Assurdi Ste macchine qua E riusciva comunque a frenare Ma è successo questo E volevo farlo Anch'io adesso Però adesso a questo punto Charles Leclerc deve uscire Lo faccio dopo Madonna ragazzi Ma che pista è Non riesco a capire Davvero ragazzi La pista Che pista è questa qua Non l'ho mai fatta Una pista così storta Ma deve essere una gara Del campionato di Formula 2 Che non fa La Formula 1 Cazzo di pista Ha fatto una pista nuova Ha fatto una È buona? Buona come idea Che pista è Charger Non l'ho mai fatta Io È nuova Con tutte queste curve D'estra e sinistra Ti dico la verità Non mi sembra di ricordarla Con la curva in salita Io non l'ho mai fatta Questa pista raga Non mi sembra di ricordarla Non mi sembra di ricordarla Non mi sembra di ricordarla Arabia Saudita Ah Ma Ma c'è da quest'anno O c'è sempre stata? Non me la ricordo proprio Con l'acqua poi Soprattutto Adesso sicuramente Ci sarà un'altra E lo sapevo che c'era Un'altra curva De merda Io non me la ricordo Io non me la ricordo Amico mio Io questa Questa pista qua Non me la ricordo Ti dico la verità Arabia Saudita C'era anche nel 2021 22esimo Le qualifiche sono terminate Siamo pronti per la gara di domani Con queste prime tre posizioni Eiken Daruvala E Daniel Tictum Un saluto per il momento Ma vediamo Non male Eh sì 22esimo No no Questa gara qui non Proprio nulla Proprio il nulla Assoluto Il nulla Dai Charder Vieni No questa qua Proprio non Con la pioggia Non è facile No ma non Non conosco proprio Una curva Una roba che c'è Tutte con le curve Lì Non l'ho mai fatta Facciamo quella Ah no Non si può giocare Giochiamo online In la campagna Madonna Quante volte deve fare Eia Il download Dei dati carriera A2 Non è ancora Ma cosa vuol dire Ok C'ha problemi di server Sto gioco Partecipazione Alla sessione Come funziona Tu entri dentro No Charder c'è Marco C'è Andrea Allora domani sera Gran turismo Amico mio Domani sera Gran turismo E domani sera Se puoi entrare A darmi una mano Davvero mi faresti Un favorozzo Se non riesci Perché come ricordo bene Che mi hai detto Che è una giornata impegnativa Mercoledì Vero Cercherò di fare La tosse ragazzi Del mio meglio Eccola L'hai chiamata La tosse Ah no Questa pista qui No In serio Che cacchio Ragazzi Questa pista Io non l'ho mai fatta Io non me la ricordo Sessioni di prova Sono vitali Per poter sviluppare Va bene Va bene Ho visto una cosa Ha fatto piangere il cuore Vai 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 Dimmi tutto Simula le prove Come faccio a simularle Ciao bello Eh grande Andrea Sì Come faccio a simularle Carderino E non hai la playstation 5 Amico mio Mi ha teso del giocatore Dice Ah questa La simuliamo Ok Vai grande Va più forte di noi A charder Te lo dico Allora Allora 6 minuti No Non posso fare niente Metaforico Meta che Meta che Eh lord Meta che No 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 Grazie a tutti